Salve a tutti! Mi chiamo Matteo. L'altro giorno stavo cercando delle sedie per il soggiorno ed io e mia moglie Silvia, ecco la raggiante come al solito, abbiamo trovato questo sito designpertutti.com. È un sito affidabile, facile da navigare e con tantissime idee originali per la casa. Puoi acquistare in tutta sicurezza direttamente sul sito oppure telefonando al numero che trovi in cima alla home page. Una volta effettuato l'ordine, l'efficientissimo staff si mette subito in moto per spedire il tuo acquisto. Eccoci nel magazzino. Il tuo acquisto viene controllato e impacchettato con cura senza tralasciare alcun dentaglio. Una volta imballato il pacco viene consegnato al corriere di fiducia che in un battibaleno porterà il pacco ovunque tu sia. Non posso credere di aver fatto tutto questo stando comodamente seduto sul divano di casa mia. Cosa aspetti con designpertutti.com? Clicc! designpertutti.com. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!